Questa mattina è arrivato un pacco ragazzi vediamo il mondo ovviamente ci stiamo nella prima serata sul canale 5 le caffatte che abbiamo rubato in questi anni negli hotel e le abbiamo personalizzate ed eccole qua per te sei più privilegiato ad averle quindi mettiti comodo sul divano e che al resto ci pensiamo noi madonna periodo allele